Carissimo Boris, tantissimi complimenti per questi anni in cui hai fatto cure palliative pediatriche e ci siamo incontrati e abbiamo seguito il tuo successo di volta in volta e ti auguro con tutto il cuore che tu possa continuare tanti anni a farlo non soltanto nel tuo paese ma a diffonderlo in tutto il mondo. Tanti auguri Boris.